... Oh, bravo Mercurio, vieni avanti! Scusami se ti ricevo così. Ma no, lascio stare! Questo è il posto per fare cerimonie. Siediti, siediti qui, laggiù. E dimmi, come va questa faccenda dei terreni? Dunque, il progetto è pronto, è quasi approvato. Praticamente potremmo cominciare a costruire anche subito. Ma c'è un mal gravissimo. Dunque lei si ricorda che...